Oggi siamo giunti alla trentatresima puntata di questo ciclo di Catechesi, stiamo nella sezione dedicata ad una rassegna diciamo antologica, chiamiamola così, dei brani maggiormente significativi che fanno comprendere alcuni effetti, alcune grazie, alcune cose rilevanti del vivere nel divino volere. La volta scorsa abbiamo approfondito una tematica molto profonda, quindi vedendo come la divina volontà è una santità del tutto eccellente e straordinaria e soprattutto il discorso della modalità particolare dell'agire di Dio che prima di fare un dono ampliato a una massa, cioè tutta quanta l'umanità, passa ordinariamente per una singola persona e così abbiamo visto l'accostamento davvero interessante e molto significativo tra la Madonna che ebbe tutto da Gesù e tutte le grazie in vista della redenzione che attraverso di lei Gesù avrebbe voluto operare e così le grazie straordinarie che ebbe Luisa come pioniera, come prima cittadrina del regno del divino volere che il Signore avrebbe donato e sta donando la Chiesa attraverso la sua testimonianza. Oggi se Dio vuole vedremo un'altra cosa molto molto bella e come dire assai ci capita casualmente ma assai adatta sia per l'ultimo giorno della cosiddetta pagliacciata del carnevale e sia anche alla vigilia quindi di una ben più importante ricorrenza per noi figli di Dio che è l'inizio della quaresima. La quaresima sappiamo tutti quanti che ricorda il tempo in cui Gesù affrontò il combattimento spirituale contro il principe delle tenebre e quindi il tema anche un po' degli angeli ribelli e anche il giusto rapporto da avere nei confronti di questa delicata tematica è un tema importante per la vita dei figli di Dio perché oggi si passa dal doppio estremo di chi addirittura non ci crede oppure chi ci crede a livello teorico però di fatto la sua vita di fede non è concepita come un combattimento spirituale anche con i principi delle tenebre ma di fatto così sarebbe per esempio vanificato completamente il senso della quaresima perché la quaresima non è altro che la rievocazione la rievocazione liturgica quindi perché noi possiamo riviverla facendo un'esperienza della lotta che Gesù fece per tutti noi vincendo contro il principe del male e la fece purtroppo a me piacerebbe che non fosse così perché a me piacerebbe che con questo se la fosse vista Gesù e poi ci ha vinto lui e a noi ci lasciasse in pace insomma purtroppo non funziona così perché Gesù ci ha vinto certamente per noi ma non in sostituzione a noi ma perché ha vinto la battaglia da uomo dando a noi la forza le armi e la grazia di poter a nostra volta senza paura ma anche con estrema serietà affrontare come sentiremo dire anche nelle preghiere eucologiche perdonatemi la parola un po' un po' grossa insomma nelle preghiere che sentiremo durante la messa domani proprio nel giorno delle ceneri e anche nella prima domenica di quaresima e quindi il regno della divina volontà come dire ha qualche influsso ha qualche conseguenza sulla su questa tematica importante nella vita interiore no quindi della tentazione dell'ensile del demonio che succede ecco ci sono degli scritti oggi ne leggerò soltanto uno che sono veramente stupendi e questi sì di grandissima consolazione perché ovviamente sempre intendendoli bene ci fanno comprendere ricordiamo che cosa disse gesù poco prima della passione no e credo che fosse il vangelo di san giovanni sono quasi certo insomma adesso sicuramente parlando mi mi potrò confermare questa 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 riminiscenza guardate dobbiamo andare disse discepoli al termine del discorso da dio perché viene il principe di questo mondo su queste testuali parole dice egli non ha nessun potere su di me nessun potere su di me ma bisogna che il mondo sappia che io amo il padre e faccio ciò che il padre mi ha ordinato l'espressione molto bella in che senso e perché il principe di questo mondo non aveva nessun potere su gesù evidentemente il principe di questo mondo non può avere nessun potere su gesù in quanto dio questo è fuori di ogni discussione ma gesù qui non sta parlando in quanto dio dice non ha nessun potere su di me in quanto uomo e perché molto semplice perché il demone non aveva nessun potere su gesù perché gesù non aveva contratto il peccato originale che rende la razza umana purtroppo assoggettata a satana questo non dobbiamo dimenticarlo mai e anche il sacramento del battesimo ci toglie la colpa d'origine ma non ci toglie purtroppo le conseguenze del peccato originale è il fatto che purtroppo il veleno del male è instillato dentro la nostra anima e per cui come dice san paolo se lasciamo la nostra natura libera allo stato brado noi siamo inclinati al male non al bene e questo permane anche nonostante la giustificazione reale il dono della grazia santificante d'accordo non dobbiamo dimenticare in questo gesù non c'era ma in gesù non c'era neanche il peccato attuale cioè gesù non aveva commesso mai nessun peccato quindi il demone non aveva nessun potere sotto nessun punto di vista d'accordo né come dire interiore ma neanche di potergli fare alcuna forma di male attenzione attenzione perché tutto quello che è successo durante la passione di gesù è da leggere alla luce di questa sua frase che è poi ripresa da una delle preghiere eucaristiche nuove della chiesa nuove nel senso che sono quelle che sono entrate nel novus sordo dopo la riforma di paolo sesto e che è molto significativa dice non ha nessun potere su di me ma bisogna che il mondo sappia che io amo il padre quindi tutto quel putiferio che è successo a gesù la violenza che ha subito gli oltragi la morte violenta non certamente naturale è stata una cosa che il demone ha potuto fare per esplicita permissione divina se non poteva farlo d'accordo non poteva proprio farlo cioè se ci avesse provato sarebbe stato respinto questo è il senso la preghiera eucaristica di cui parlavo che è la 2 diceva dice no diceva egli offrendosi attenzione liberamente alla sua passione è stata un'offerta libera cioè per fare che non è che c'è se alcune persone che mi volessero male venissero da me facessero un agguato mi catturassero mi torturassero se lo potrebbero fare in qualunque momento d'accordo perché io per quanto cerco di fare del mio meglio nella vita cristiana ci provo insomma questo mentirei se se dicessi il contrario ma sono un povero uomo d'accordo ma gesù non era così cioè per passare da gesù ci voleva come dire un re scritto della santissima trinità se no nessuno poteva accostarsi né dei suoi nemici satanici né dei loro ignari o coscienti in sesamo non fa niente collaboratori umani che sono stati quelli che di fatto poi lo hanno preso lo hanno torturato l'hanno ucciso d'accordo gesù quest'altro particolare si vede sempre nel vangelo di san giovanni lo mostra quando lo catturano cioè lo vanno per catturare vi ricordate quando gesù dice chi cercate dice gesù è il nazareno e lui imperioso sono io tutti per terra questo si vede anche perché per chi recita le ore della passione nelle ore della passione non particolare colto d'accordo quindi con quel gesto attenzione voi mi prendete perché io mi faccio prendere e questo che significa significa che il demonio su gesù cristo non c'aveva nessun potere e sulla madonna punto interrogativo il demonio sulla madonna non c'aveva nessun potere nessuno e tra l'altro sulla madonna non è stato consentito dal cielo di fare quello che è stato fatto a gesù la madonna è stata come dire torturata solo interiormente ma nessuno l'ha sfiorata neanche con un dito la madonna mai né tantomeno la madonna a differenza di suo figlio che era redentore è passato per la morte perché la morte per gesù è stata morte violenta causata dalla necessità di redimerci alla madonna a dio gli ha chiesto la morte del cuore la morte mistica che visse durante la passione la croce che è peggiore di qualunque morte umana che si possa vivere ma non la morte fisica quindi cosa e perché tutto questo perché le anime di gesù e di maria erano una cosa sola con la divina volontà facciamo un altro passetto ancora c'è un altro passetto ancora su Adamo ed Eva vediamo un po' quale potere avrebbe avuto il serpente nessuno se Adamo fosse stato leggermente più intelligente leggermente avrebbe immediatamente respinto quell'attacco fatale alla razza umana ricacciandolo via cioè prima di aprire la breccia del peccato il demonio su un'anima come era quella di Adamo che aveva il dono della divina volontà non ha nessun potere nessuno nessuno ulteriore domanda e se qualcuno di noi per dono di Dio ed anche per libera scelta accoglienza propria entrasse nel regno della divina volontà che succede nei suoi chiamiamoli così rapporti con il diavolo che succede c'è qualche bella notizia dagli iscritti quindi questo sarebbe un ottimo motivo bisogna fare molta molta attenzione figlioli miei cari perché torno alla premessa prima di leggere lo scritto e di commentarlo c'è chi oggi grossolanamente e facendo un gran favore al diavolo pensa che il diavolo non esista d'accordo che il male sia una sorta di concetto astratto queste cose purtroppo sono state farneticate specialmente negli anni 70 anche da ahimè professori di teologia chiamiamoli professori insomma io ho tanta compassione insomma per le loro anime non faccio nomi e non voglio giudicare però insomma come disse San Giovanni Paolo II qualcuno gli disse ma dice ma Santità sono alcuni teologi che dicono che il diavolo non esiste dice sì se non esiste il diavolo non esiste neanche Gesù Cristo d'accordo perché Gesù Cristo è venuto sulla terra per fare una cosa come dice il Nuovo Testamento per distruggere le opere di Satana d'accordo e per liberare l'uomo dalla schiavitù a lui non ci sono altri motivi per cui Gesù è venuto sulla terra Gesù non è venuto sulla terra per risolvere la fame nel mondo perché la fame nel mondo c'è ancora d'accordo quindi se fosse venuto perché il motivo la missione di Gesù è pallita ma non è venuto sulla terra per questo è venuto sulla terra per quest'altro motivo quindi negare che esista il diavolo anche stante la testimonianza dei Vangeli è una posizione assolutamente inaccettabile eterodossa eretica ora ci sono persone che dicono oggi succede con alcuna verità di fede no? sì 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 il diavolo esiste d'accordo il diavolo ti descrivono anche molto bene chi è il diavolo è un angelo ribelle si è ribellato a Dio però di fatto accentuano un po' troppo il fatto che dice sì ma il nostro Signore Gesù Cristo lo vedremo domenica prossima l'ha vinto l'ha battuto durante la passione l'ha vinto ancora di più perché si è fatto fare tanto di quel male immeritato subendo una prevaricazione e rovesciandolo attraverso la resurrezione quindi possiamo di fatto stare tranquilli cioè il diavolo c'è esiste opera l'inferno pure forse esiste però il potere che c'è al diavolo su di noi sarebbe da parte di qualche molto poco molto molto scarso eppure l'inferno sarebbe forse poco abitato perché la retenzione operata da Cristo e la misericordia di Dio sono talmente grandi che lo hanno spopolato ecco a mio avviso questa seconda posizione è più pericolosa della prima perché ecco le cose insomma un po' più intelligenti sono sempre più pericolose di quelle grossolane capite cioè i distinguoi però un po' così a volte sono più suadenti ecco delle grossolanità premesso che a me piacerebbe tantissimo che fosse così la situazione quindi che basterebbe avere un'adesione teorica alla verità di fede circa l'esistenza degli angeli dei ribelli e quindi l'esistenza dell'inferno appunto e basta e poi adagiarsi in una presunta vittoria finale già realizzata da Cristo e quindi noi abbiamo al massimo qualche scaramuccia insomma abbiamo qualche pistolettata a salve insomma da passe con il diavolo io sarei contentissimo d'accordo sarei proprio l'uomo più felice del mondo stare proprio come una Pasqua e farei una bella predica proprio se il Signore è meglio a suonare la tromba insomma e a fare tutte quante queste cose e allora però a quanto ci insegna l'esperienza a quanto ci insegna la testimonianza di innumerevoli santi le cose non stanno così d'accordo le cose stanno prima di dire come stanno vediamo l'altra posizione che è estrema cioè c'è gente che ha l'ossessione del diavolo nel senso che è malata come dire mi si perdono insomma il termine un po' neologistico di diavolismo nel senso che ebbè il diavolo l'ha per tutto insomma dandogli anche un risalto e un potere che sembra quasi certamente il suo potere è grande adesso vedremo ma non possiamo noi pensare di stare sotto una cappa da cui è impossibile liberarsi ecco è impossibile perché questo diavolo purtroppo è vero che ci sono molte sue operazioni ma non bisogna esasperarne l'importanza quasi che noi fossimo delle vittime che non ci possiamo difendere a questo punto cioè io con tanta umiltà con tanta con tanta con tanta umiltà metterei in ginocchio davanti al signore e dire senti signore mio io lo capisco che noi siamo poveri peccatori lo capisco che noi ci meritiamo di tutto e di più però se siamo consegnati in maniera irreversibile contro uno che è più forte di noi perché un angelo è più grande di noi e io non ci posso fare niente per difendermi cioè che cosa possiamo fare che dobbiamo fare allora non è vero che nel nome di Gesù lo possiamo vincere che con te lo possiamo vincere ecco quindi la posizione estrema quindi e anche dentro questa posizione estrema sbagliata circolano anche molte come dire molte forme magico superstiziose di lotta contro il demonio che io l'ho detto tante volte cioè persone che non hanno un minimo di vita di preghiera un minimo di vita di fede eccetera eccetera magari contattano il preghiera di turno e dice padre ma la sala devo fare una bella benedizione perché mi è venuto il malocchio oppure veniva tutto storto nella vita attenzione queste cose ho fatto tante catechesi possono anche in teoria dipendere da qualche cosa di brutto che uno potrebbe aver ricevuto ma sta attento cioè il problema non è quella cosa di brutto ma se tu vivi senza grazia di Dio senza preghiera quindi senza avere la presenza di Gesù dentro di te ma è chiaro che sei di per se stesso un bersaglio esposto e sarebbe come se uno camminasse come dire in un avete visto come erano gli americani nei tempi del Vietnam no? tu cammini dentro una foresta sai che impiccati sopra gli alberi c'è stanno i vietcong che ti sparano o ti o ti o ti steccano e tu cammini lì sotto senza scudo senza armatura come se niente fosse c'è soltanto l'imbarazzo della scelta di in quale momento parti secco d'accordo ma è un gioco da ragazzi quindi dietro questa visione come dire iperbolica del potere del diavolo poi c'è anche la visione scappatoistica oggi me ne sto aumentando tutti i colori dei rimedi cioè vado da qualche esorcista me faccio toglie qualche malocchio e le cose aggiustano il lavoro va bene la situazione si risolve oh ma quando mai d'accordo e gli esorcisti come scrivono nei libri hanno tutti quanti i capelli dritti perché si ritrovano una montagna di gente che li considera come delle sorte degli stregoni capite cioè allora tu adesso hai la pozione negativa e io ne faccio un'altra capito cioè questi questi vanno i riti magici con tutti i magheggi con tutte le cose che fanno questi e noi faremmo un'altra sorta di rito magico bianco capite ma che so ste cose è chiaro che in certe forme anche questo non ho parlato esiste la preghiera ufficiale della chiesa il sacramentale dell'esorcismo il sacramentale della preghiera di liberazione ma tutte queste cose fanno parte di un percorso di liberazione che chiama sempre in causa la libera volontà tra virgolette del paziente cioè tu la prima cosa che devi fare è tornare a Gesù umiliarti confessarti metterti in grazia pregare osservare i comandamenti e poi se a causa di non aver fatto tutte queste cose in passato ed essere diventato un bersaglio te sei trovato nei guai userai pure i sacramentali gli esorcismi e tutto quello che ti pare ok quindi dentro la visione che sto diavolo sarà per tutto c'è anche come dire una concezione magica della soluzione che a volte purtroppo percorre anche vie strampalate cioè la via del mago la via del santone vero o falso la via di quello che ti insegna la preghiera X che ti dà l'oggetto Y a destra e a sinistra e succede il finimondo qual è la posizione cattolica dico cattolica d'accordo cioè avallata dalla sana dottrina della chiesa è come sempre si riscontra in tutto la posizione equilibrata equilibrata non vuol dire tiepida ma vuol dire equilibrata vuol dire uno il demonio ha assunto potere sulla razza umana in quanto tale attraverso il peccato originale per cui tutti quanti noi adesso quando comincio a un campionato partiamo nel combattimento con dei punti di penalizzazione a priori siamo già debolucci questo è un dato di fatto secondo gli angeli ribelli sono creature intelligenti e di per sé più intelligenti più astuti e più forti di noi secondo per cui senza un aiuto soprannaturale stiamo combattendo una battaglia persa perché non ce la faremo terzo però terzo però la loro forza la loro astuzia non è tale da poter funzionare contro la nostra volontà o sfondando la nostra volontà cioè quanto potere c'ha il diavolo nella vita tua che stai seguendo questa catechesi indiretta indifferita tanto quanto tu gliene hai dato né più né meno e come glielo dai ogni volta che liberamente dici amen alla volontà del diavolo la volontà del diavolo lo dice Gesù nel Vangelo egli è peccatore fin da principio capito cioè noi non ci pensiamo a queste cose qua vi faccio un esempio se tu dici una parolaccia una volgarità tu presti la bocca al diavolo non è un parlare per metafora anche perché se vi leggete i libri degli esorcisti tipo padre Francesco Bamonte eccetera eccetera vedete che quando riportano le esperienze significative di quelli combattimenti cominciano a tra parentesi quadri parolaccia tra parentesi quadri parolaccia tra parentesi quadri parolaccia perché il parlare dei diavoli è menzogna e parolaccia ordinariamente poi ogni tanto devi assegurare qualche bestemmia o qualche altra cosa capito ogni volta che tu fai dal peccatuccio che è una piccola porticina aperta al peccato con la P maiuscola che è quello volontario in materia grave cioè che è peccato mortale tu stai dando potere al demore e non dimentichiamo mai che noi andiamo a finire noi speriamo di no cioè che un uomo può finire all'inferno che non è vuoto non certo perché Dio capite io lo dico sempre questa cosa qua cioè ah perché uno va a finire all'inferno ah perché Dio fa così adesso mo sei morto no? e mo facciamo i conti quante ne hai combinate in tutta la vita? ah ne vatteno tutti i colori e adesso via inferno cioè io spero che nessuno ci abbia un'idea di Dio di questa di questa cosa sarebbe una follia Dio amore è amore assoluto Dio ha andato il figlio a morire torturato a farselo lui in inferno al posto nostro però questo non ci salva dall'inferno se noi non lo vogliamo perché se uno se ne è altamente infischia di quello che ha fatto nostro Signore è Gesù Cristo rifiuta di credere in lui rifiuta di credere al messaggio che Gesù porta di accogliere la sua salvezza e di entrare nell'ottica che per tenere il diavolo lontano da sé i peccati non li deve fare non li deve fare per nessun motivo nella lettera agli ebrei si dice fino al sangue si deve resistere nella lotta contro il peccato io ho detto tante volte sono nella diocesi di Latina la patrona di Latina è Santa Maria Coretti martire della castità una ragazzina di neanche 12 anni che piuttosto che subire una violenza sessuale quindi a consentire passivamente quindi manco sarebbe un peccato mortale in senso stretto una violenza sessuale si è fatta ammazzare perché così si deve fare allora detto in altre parole il demano non ha nessun potere contro la nostra volontà però la nostra volontà per essere forte contro il demonio ha bisogno di nostro Signore Gesù Cristo quindi io sarò forte contro il diavolo sì tanto quanto sono unito a Gesù Cristo allora ci abbiamo già la risposta finale prima ancora di leggere lo scritto che poi comunque ce lo costeremo e se io vivo unito con la divina volontà e se io sono fuso con la divina volontà che mi può fare il demonio? ormai la domanda è diventata retorica così ci leggiamo lo scritto te può fare niente niente sai che significa niente? non solo niente e il demonio scappa se vede qualcuno che vive unito perché il demonio non lo può sopportare una persona che è fusa con la divina volontà perché lui è l'anti divina volontà per antonomasia lui è l'avversario lui è colui che soppone lui è il fronteggiatore di Dio lui è il bastian contrario capite? lui Dio dice A e lui dice B a priori a prescinde qualunque cosa sia capite? allora se io sto tanto unito a Dio ad essere fuso con la divina volontà lo sai che te fa il diavolo? è guai se non fosse così te fa un baffo dicono zero non ti può fare niente niente questo non deve portare ovviamente cioè rettamente intendere queste cose non è che uno mette a fare il gradasso se mette a fare come dire lo splendido ah io non so la divina volontà il demonio non mi fa niente cioè non è non è questo qui cioè non è questo il motivo per cui si deve prendere coscienza di questo però certamente dobbiamo tenere la verità teologica fondata nella sana dottrina della chiesa e nella sana lettura di questa particolare verità di fede tale che se io sono unito con la volontà di Dio che la volontà di Dio è la santità cioè è l'antidiavolo il diavolo dove va? che cosa vuole fare il diavolo con noi? una cosa molto semplice farti peccare perché è solo facendoti peccare che ti può portare all'inferno in questo senso si dice che all'inferno ci andiamo soltanto per volontà nostra nessuno è così scemo perdonatemi il termine da dire oh che bello voglio andare all'inferno salvo qualche srava che è matto di quelli che circolano in mezzo alle sette nere che è così sciocco di una cosa del genere ma nessuno e infatti molta gente a quello che raccontano le testimonianze attendibili che andare all'inferno mica andare all'inferno perché voleva andarci ma non fa niente perché il diavolo non vuole che tu sia cosciente che l'inferno esiste e che è una reale possibilità e che è una via senza ritorno e che è una via di tormenti eterni non vuole che tu sappia questo né che tu lo tema vuole che tu vivi tranquillo spensierato e sereno tanto lui basta che riesce a farti fare un peccato mortale da cui non ti liberi e ti puoi liberare da questo solo ricorrendo al sangue di Cristo cioè andando a confessarti se già fai parte della Chiesa sua compagine visibile attraverso i sacramenti se no non ci stanno capito ed è per questo cosa insegna la Chiesa chi ci va all'inferno i vecchi catechismi che erano un po' più chiari all'inferno ci vai che ha commesso anche un solo peccato mortale senza essersi pentito cioè non ci manda nessuno nostro Signore ci vai tu all'inferno d'accordo se fai i peccati e quindi è ovvio che vivere nella divina volontà non si parla nemmeno del peccato capite perché qui siamo su un altro pianeta e quindi che potere ha il diavolo sulla tua anima zero a questo punto siamo pronti ad andare a leggere lo scritto del volume quindicesimo che parla di questo argomento cioè il 28 aprile 1923 tra l'altro il 28 aprile lasciatemelo dire insomma che questa data particolarmente fausta di questo scritto il 28 aprile anche oggi nel calendario della chiesa ricorre la memoria liturgica di San Luigi Maria Grignon da Monfort insomma quindi è che è stato un altro che al diavolo gli ha fatto vedere i sorci verdi perché basta essere molto uniti alla Madonna come era lui per fargliene già vedere abbastanza le sorci verdi dal demonio e ci venisse voglia un pochino a tutti quanti perché capite il demonio purtroppo ne fa vedere tanti le sorci verdi agli esseri umani ecco sarebbe ora che ci destassimo un pochino in piedi e che un po' dei sorci verdi rivedesse lui ecco grazie ad una vita di profonda unione e comunione con Dio e con la sua divina volontà passo alla lettura mi sentivo come immersa nella luce interminabile dell'eterna volontà e il mio dolce Gesù mi ha detto figlia mia la mia divinità non ha bisogno di operare per far uscire le opere fuori guardate che bello ma le basta solo il volerle sicché voglio e faccio le opere più grandi più belle escono fuori solo che le voglia invece la creatura ancorché le volesse se non lavora non si muove nulla fa ora state attenti figlioli miei cari per chi fa suo il mio volere vive in esso come nella sua propria reggia le viene comunicato ovviamente quanto a creatura è possibile lo stesso potere capito prima ancora qui ancora parla del diavolo ma soltanto a mettersi a riflettere su questa prima uscita di Gesù se potremmo stare fino a alla domenica di Pasqua quando ancora non sono cominciate le sceneri cioè pensiamo a cosa è la divina volontà cioè per Dio volere è ipso facto operare e non c'è niente che può sfuggire al potere della sua volontà niente capito che significa niente il fondamento della nostra dicevo anche oggi parlando con un amico ogni giorno se ne sente una sui problemi del mondo i problemi politici i problemi nella chiesa insomma noi viviamo in tempi molto tranquilli no e io mi ricordo insomma che un tempo anche come io cioè sentivo una cosa come in angoscia che non finiva mai dico mamma mia dove andremo a finire qua a destra a sinistra e mo c'è questa e mo c'è quest'altra e mo se ne sparano questa e cominciavo a angosciare e dico ah qua è la fine qua adesso chi lo sa cioè per carità comprensibili tutte queste cose qui insomma è una brutta notizia è una brutta notizia è una brutta notizia adesso non lo faccio più ma non è che non lo faccio più perché sono diventato come gli stoici adalastici che dice andatene tutti posso dire parolacce andatene tutti io mi faccio gli affari miei e non te voglio sentire questo sarebbe un atteggiamento brutto sarebbe un atteggiamento come dire certamente non cristiano cinico diciamo no quindi allora il dolore è grande dinanzi a certe cose ma anche Gesù e Maria soffrono dinanzi a tante situazioni però il dolore è temperato da cosa dico attenzione Dio non sta dormendo capito io vi prego di ricordare Dio non sta dormendo se questa cosa è accaduta anche se Dio non la vuole essendo una cosa negativa c'è una divina permissione a volte ah neanche su tanti problemi a volte per esempio ma questa la storia sacra è piena no pensate alla vicenda di Israele nell'esodo ah sono stati schiavi per 500 anni cioè ha portato la situazione a un punto di esasperazione cioè questi ne la facevano più hanno lanciato le grida basta signore lì non ce la fanno più sono 500 anni che stiamo così e ha suscitato Mosè cioè gli ha fatto arrivare fino al fondo proprio della disperazione allora ogni tanto viene a mente dico ma con tutta sta corruzione dilagante potarsi che il nostro signore dice via forza sfocatevi un altro po' andate avanti continuate dai buon divertimento vediamo un po' vediamo quando capirete che più fate così e più state a fare la fine del mondo la state a fare voi non lo faccio io fino a quando qualcuno non si spiegherà e dirà fermo basta e si comincerà a mettersi in ginocchio davanti al nostro signore liberaci da sta morsa e magari farà ricorso a qualche anima santa che ancora da qualche parte in giro nel mondo d'estate dicendogli taccia una mano per ci fuori da ste cose perché tutti gli guai che abbiamo combinato ci siamo stufati abbiamo capito adesso questo adesso a parte il discorso cioè capito cioè stiamo dentro una volontà che se Dio volesse dire basta a tante situazioni sapete che significa un istante un istante un istante sono come dire pensiamo alle cose più brutte che sono state fatte tutte le leggi inico le leggi brutte degli stati e gli aborti e le cose tutto che ti pare no se Dio volesse mettergli fine se volesse direbbe basta questo non vuol dire provocare o tentare il nostro signore no però siamo in un tempo almeno nel tempo proprio adesso dove mamma mia abbiamo assistito a tante cose no non ne siamo ancora fuori vuol dire che ancora non è abbastanza ma Dio non sta dormendo non sta dormendo ed è anche compito nostro tenerlo sempre in piedi alzandogli qualche preghiera dicendo Signore noi abbiamo sempre tanta fede però tu ricordati del tuo popolo della tua chiesa insomma ecco quindi facendo eco alle splendide parole dei salmi e Gesù dice attenzione chi fa suo il mio volere e vive in esso avremo nelle prossime puntate facciamo un trailer adesso una splendida lezione dove gli iscritti si spiega benissimo non è un tema che abbiamo già fatto insomma detto dalle parole di Gesù è un pochino la differenza tra il fare la divina volontà e il vivere nella divina volontà quindi chi fa suo il mio volere vive in esso le viene comunicato quanto a creatura è possibile lo stesso potere ragazzi questa è tanta roba Gesù non scherza se dice una cosa è quella né scherza né inganna né può ingannare e non dice le bugie manco per scherzo nostro Signore e non si dicono tra l'altro le bugie manco per scherzo ora mentre ciò diceva proseguo la lettura mi sentivo tirare fuori di me stessa e mi trovavo sotto i miei piedi un brutto mostro che tutto si mordeva per la rabbia chi sarà e Gesù sta andando a mio vicino a soggiunto adesso questa è musica per le mie orecchie come la mia vergine madre schiacciò il capo alla serpe infernale gliel'ha schiacciato capito gliel'ha proprio stritolato non c'è non c'è proprio speranza contro la Madonna capito così voglio che un'altra vergine sempre lo troveremo tante volte questo parallelismo repito tra la Madonna e Luisa che deve essere la prima posseditrice della volontà suprema prema di nuovo quel capo infernale per schiacciarlo e debilitarlo in modo da rintanarlo nell'inferno attenzione affinché abbia pieno dominio su di lui e non ardisca ad avvicinarsi a chi deve vivere nel mio volere non si deve azzardare perciò metti il tuo piede sul suo capo e schiaccialo attenzione questa è una visione che lei ha avuto ha visto un brutto mostro sotto i suoi piedi che si muoveva di rabbia gli ha detto schiaccialo risposta io ardita l'ho fatto e quello si mordeva di più se stava a rimordi capito se stava a contorce e attenzione per non sentire il mio tocco si rintanava nei più cupi abissi con la coda tra le gambe scappava onde Gesù ha ripreso il suo dire figlia mia ha detto pure a lei perché anche Luisa si vede dagli scritti che non sempre aveva capito bene non si rendeva conto di quello che stava succedendo e di quello che Gesù le stava donando Gesù ha ripreso il suo dire figlia mia tu credi che sia nulla il vivere nel mio volere no no anzi è il tutto è il compimento di tutte le santità questo l'abbiamo visto nel scritto precedente è il dominio assoluto di se stessi capite che significa dominio assoluto delle sue passioni e dei suoi capitali nemici chi vive nella divina volontà non si arrabbia non è invidioso non è geloso non è iracondo non è superbo non è arrogante mettete tutti quanti tutte quante le passioni di questo mondo non è goloso niente non lo è e se ancora lo è non vive nel volere divino perché non ha il dominio assoluto di se stesso assoluto di se stesso non è il dominio ha il dominio sostanziale di se stesso diciamo che si controlla un po' abbastanza accettabile ogni tanto però no no il dominio assoluto delle sue passioni e dei suoi capitali nemici chi sono i capitali nemici conosciamo un pochino di letteratura ascetica classica la carne il mondo e il demonio sono i tre nemici dell'anima quindi la carne per noi cioè ce la mangiamo in tempo non di quaresima il resto il termine carne non c'ha neanche significato per un figlio della dinamore che cos'è la carne boh Gesù la mangiava la carne quindi si può si può mangiare insomma nel quaresimo facciamo qualche sacrificio ma finito questo carne non c'è capito nel mio vocabolario il mondo con i suoi idoli con i suoi soldi buon divertimento io c'ho altro a cui pensare il diavolo il diavolo il diavolo il diavolo se ne deve andare all'inferno non ci deve venire a me non ci deve venire non si può azzardare perché non c'ha niente dove andarmi a prendere se io voglio fare soltanto quello che Dio vuole e sono unito al suo volere che vuole ho fatto bene alla confessione ho fatto tutte le confessioni in generale ho fatto bene su tutti i peccati che ho fatto abbiamo chiuso i conti e adesso cambiamo registro cambiamo capitolo certo lui continuerà a fotte durante le guerre mondiali di questo mondo ma fuori di noi intorno a noi ma non dentro di noi allora riprendo la lettura il domino assoluto di se stesso di le sue passioni dei suoi capitani nemici è il trionfo completo del creatore sulla creatura sì che se lei aderisce attenzione se lei aderisce e io giungo a che viva nel mio volere senza volere più conoscere il suo volere non ho più niente da volere dalla creatura e lei non ha più niente da darmi tutte le mie brame sono compiute i miei disegni realizzati e non resta altro che felicitarci a vicenda e ricomincia il paradiso sulla terra l'Eden di tutti gli altri dicono ma la divina volontà è l'Eden sulla terra è certo che è l'Eden sulla terra l'Eden sulla terra è come in cielo che si fa in paradiso in paradiso si fa la volontà di Dio e basta in paradiso c'è una bella scritta quando entri fiat volontas tua basta se tu la vai qua ecco il paradiso finito d'accordo con tutta la felicità che questo comporta perché è una felicità profonda e reale ho sempre detto compatibile con la croce che ancora caratterizza questa dimensione perché comunque noi siamo comunque in stato di viatori abbiamo il corpo come dice San Paolo del peccato stiamo nella condizione comunque di debolezza e quindi c'è bisogno della croce ma la croce diventa gioia per rifiutare di una volontà non spauracchio strumento di tortura è vero che venni sulla terra per redimere l'uomo ma il mio scopo principale quindi scopo secondo quanto a tempi di realizzazione ma scopo principale scopo primo quanto a intenzione fu che la volontà divina trionfasse sulla volontà umana con l'accordare insieme queste due volontà e farne una sola col portare quindi la volontà umana in quella volontà da cui era uscita volontà con la V maiusco era questa la principale offesa che il mio celeste padre ricevette dall'uomo ed io dovevo risarcirlo altrimenti non gli avrei dato piena soddisfazione ma per ottenere il primo scopo cioè che l'uomo tornasse a vivere nella divina volontà dovetti mettere fuori prima il secondo scopo cioè la detenzione cioè salvarlo dargli una mano perché era caduto lavarlo dal fango in cui già si sa come fai a vivere la divina volontà se stai nelle mani del diavolo col peccato ti devo tirare fuori dai guai e rilavarti poi vivrai nella divina volontà ok ecco perché sono passati anche dei secoli prima che queste informazioni che sono già tutte quante contenute nel nuovo testamento e nella sagra struttura venissero in questo modo esplicitate quindi ottenuto dopo aver ottenuto il secondo scopo voglio mettere in salvo il primo che la mia volontà si faccia in terra come in cielo questo è il fiat santificante tanto per fare un po' di ripasso ogni tanto ci fa bene no la divina volontà si manifesta nei tre fiat creante redimente e santificante quali sono fiat lux il fiat creante fiat michi il fiat redimente fiat volontas tua sicuro in cielo e in terra e fiat santificante ok che la mia volontà si faccia in terra come in cielo e l'uomo uscito a suo tempo dalla mia volontà rientri di nuovo nella mia e per ottenere ciò do a questa prima creatura e tutti i miei meriti tutte le mie opere tutti i passi il mio cuore palpitante le mie piaghe il mio sangue la mia unità per disporla ho saltato due righe lo noto adesso cioè dovevo salvarlo e lavarlo dal fango in cui giaceva ho saltato due righe molto importanti come potevo dire vieni a vivere nel mio volere se era orrido a vedersi e sotto la schiavitù del nemico infernale possibile allora prima deve prendere il frutto completo della mia retenzione e come in trionfo entrare in possesso del mare in mezzo della mia supera volontà ecco perché tutto quello che attiene anche come dire le prime catechesi alla santità chiamiamola comune ordinaria è patrimonio presupposto per entrare nella divina volontà d'accordo? non voglio che entri da estranea ma da figlia non da povera ma da ricca non brutta ma bella come se fosse un altro me perciò tutta la mia vita voglio accentrare in te e mentre ciò diceva sentite che bello uscivano da lui come tanti mari che si riversavano su di me ed io vi restavo dentro inabissata e nel medesimo tempo un sole che batteva la sua luce che riceveva il frutto completo della redenzione per poter dare il frutto completo del suo volere alla creatura era il sole dell'eterno volere che festeggiava l'entrata della volontà umana nella sua bellissimo concludo e gesù questa mia volontà divina crebbe come un fiore nella mia umanità cui io trapiantai dal cielo nel vero eden della mia umanità terrestre germogliò nel mio sangue sbuccò dalle mie piaghe per farne il dono più grande alla creatura non vuoi tu riceverlo ed io si e lui voglio trapiantarlo in te amalo e sappilo custodire bene quindi ricapitolando un pochino nel senso di questa puntata stiamo in quasi in chiusura indirittura di arrivo il senso era questo cioè chi vive nella mia volontà schiaccia la testa a satana ed egli non ha nessun potere più nessun potere su di lui cioè vi invito rileggo io ardita l'ho fatto e quello si mordeva di più e per non sentire il mio tocco si rintanava nei più cupi avvisi cioè la lezione allora dobbiamo fare attenzione così chiudiamo il ciclo di questo di questa puntata quando uno vive nella divina volontà attenzione cioè il termine peccato scompare attenzione con questo non vuol dire che scompare la confessione nine non date mai retta punto primo perché qualche venialità non deliberata è sempre in agguato e noi non possiamo esserne mai certi di averla completamente dibellata e tra l'altro con la luce del signore è facile percepirla secondo essere nella divina volontà cioè l'esame di coscienza anche di un figlio del divino volere si raffina un po' ecco capite cioè non ci stanno soltanto i peccati come materia da confessione questo è il passaggio che gradualmente si fa ci stanno le imperfezioni le imperfezioni che noi commettiamo sono come diceva l'offertorio della messa dell'antico innumerevoli se non ci batiamo e non ci facciamo caso innumerevoli e un'imperfezione è già una piccola piccolissima uscita scappatina le chiama in qualche in qualche in qualche zona degli scritti Luisa dalla divina volontà perché Dio è perfezione assoluta Gesù nel Vangelo ha detto siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste non dobbiamo intendere questa cosa perché ogni tanto quando qualcuno sente questi discorsi dice ah mo vogliamo fare i perfettissimi vogliamo fare la classe dei puri non si tratta di fare questo qui ma si tratta la perfezione di un cristiano è la perfezione delle virtù è la perfezione della carità sono quelle piccole che ne so delicatezze che avvicinano la creatura alla perfezione cioè le opere di Dio sono perfette sono capite in tutto sono perfette meravigliose noi siamo immagine e somiglianza di Dio ma nella misura in cui siamo fusi con la divina volontà come dice Gesù per quanto possibile le viene comunicato lo stesso potere della divina volontà cioè partorire e far germogliare continuamente perfezione in sé intorno a sé capite quindi posso dire una persona che viene nella divina volontà tanto fa un esempio non solo che le parolacce non le dice mai d'accordo ma manco per scherzo una pocarità ma neanche le espressioni un pochino più come dire le piccole impregazioni tipo mannaggia la miseria che dice ma che sarà mai mannaggia la miseria non lo dice non serve dire mannaggia la miseria non occorre perché sicuramente la madonna lo direbbe mannaggia la miseria no Gesù lo direbbe mannaggia la miseria no se io sono unito con la divina volontà con cui Gesù e Maria erano unifusi posso dire mannaggia la miseria no però questo qui capite io spero non deve essere preso come una legge una cosa non si può di manco mannaggia non è questo il fine cioè oppure dire ma io ogni tanto mi devo sfogare ho capito te vuoi sfogare cioè l'esigenza di sfogarsi in questo modo è un'esigenza comprensibilissima è un'esigenza umana d'accordo una persona che vive in maniera soprannaturale non ce l'ha più questa cosa qui non è per questo non è una cosa che nasce dall'oggi al domani è un cammino è un itinerario è un percorso che si fa con gradualità però con con costanza con perseveranza con convinzione con desiderio capite vivere nella divina volontà è operare da Dio capite Dio opera in maniera assolutamente perfetta in tutto cioè i santi classici cioè sapete no i santi classici non i santi che sono grandi santi ma non ancora diciamo introdotti esplicitamente nel regno del divinvolere quando la chiesa ha fatto il processo di beatificazione e di canonizzazione la prima cosa che controlla è se hanno esercitato le virtù cristiane in grado eroico cioè se hanno vissuto la perfezione evangelica capite non pensiamo che sono cose impossibili sono cose possibilissime perché Gesù non chiede l'impossibile se Gesù ha detto al termine del discorso della montagna siate voi dunque perfetti come è perfetto il padre vostro che è nei cieli vuol dire che questa perfezione si può raggiungere e non dobbiamo subito cominciare a dire eh ma no ma questo qua ma io l'amo io non ce la farò mai sono un essere umano io sono un peccatore io ho i miei difetti io non mi devo sfogare va bene d'accordo cioè va bene non va bene va bene nel senso che uno prende atto però sono tutti quanti discorsi campati perari d'accordo cioè uscire anche minimamente dalla divina volontà anche se che purtroppo non è operazione agevole starci proprio sempre completamente fusi vuol dire stare male noi stare un po' peggio d'accordo perché la fonte della felicità infinita che è Dio è la sua volontà e la sua volontà è perfezione assoluta capite dove il male non come dire il male in Dio non può entrare neanche in quella piccola forma perché capite l'imperfezione è una appunto piccola mancanza no la cosa che è buona anche molto buona ma che ci manca quella piccola antichia per renderla perfetta che la piccola antichia è un po' di gioia di meno è un po' di felicità di meno ecco è un po' di cosa meno bella e perché a noi ci piacciono le cose bellissime ci piacciono le cose che ci rendono tanto 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 felici e sappiamo che questo che sembra un sogno ma insomma sognare non è peccato insomma specialmente quando i sogni sono belli può essere vissuto anche in questo mondo ecco il dono della divina volontà bene una santa quaresima a tutti quanti invito chi può questa sera a passare un pochino di tempo io lo farò in preghiera ecco perché i figli di Dio non vanno molto d'accordo con il carnevale d'accordo non perché sono nemici attenzione della gioia o del divertimento ma perché sono nemici del non buono e non sano divertimento d'accordo quindi noi ci divertiamo molto ecco con Gesù e con Maria e sulle scuole dei santi insomma che trascorrevano questi giorni in preghiera per riparare le colpe di chi non si rende conto quasi sempre di quello che fa ecco se qualcuno ha un po' di tempo per fare qualche rosario sicuramente farà cosa buona per sé e buona per molti intanto appuntamento la prossima settimana con la mia benedizione Ave Maria Grazie a tutti